Prossima stazione, 18 dicembre, Next Station, 18 dicembre Sabato 18 dicembre, Edera Squat, via Pianezza 115, Lucento, Torino, concerti benefit per gli arrestati del 27 febbraio a Barcellona, suoneranno Strebla, Bari, Lois Post-Harkour, Carmona Retusa, Torino, Lois Rock, Preciso e Pestone No Ciappi, Bourjois, Meta Rap contro il Metaverso, da Genova Strangolatori del Gange, Lungodora, Rock'n'Roll's Windsor Edera Squat, via Pianezza 115, Lucento, Torino, benefit per i presos del 27 febbraio a Barcellona Non mancate